Domani festa della misericordia, per comprenderne origine e ragioni abbiamo incontrato la teologa Porzia Quagliarella nella Chiesa del Cristo Misericordioso di Andria, dove è custodito un affresco risalente all'anno 1000, soggetto il Cristo morente sulla croce. Francesco Rossi. Partiamo da questa splendida iconografia della misericordia di Dio verso di noi, la morte di suo figlio. La crocifissione effettivamente rappresenta il momento più alto dell'amore di Gesù, si è donato totalmente. In questa donazione che lui, diciamo, ha fatto all'umanità, ha cercato anche di contattare, potremmo dire, attraverso il dialogo e in qualche modo questo messaggio dato a Santa Faustina Kowalska, che in qualche modo rappresenta l'apostola della Divina Misericordia. La Divina Misericordia che è stata celebrata già da Giovanni Paolo II, perché è stato lui che ha istituito questa festa della Divina Misericordia, e sono principalmente cinque i modi che Gesù stesso ha chiesto a Santa Faustina di, in qualche modo, fare osservare a tutto il mondo. Infatti questo è il diario di Santa Faustina Kowalska e le forme del culto sono innanzitutto la venerazione all'immagine della Divina Misericordia, perché praticamente Gesù, quando si è mostrato a Santa Faustina Kowalska, si è mostrato in un modo molto particolare e loro, il confessore di Santa Faustina, padre Michele e suo poco, praticamente ha fatto modo di trovare un pittore che dipingesse l'immagine di Gesù Misericordia. Questa immagine di Gesù Misericordia, Gesù voleva che fosse venerata con la scritta sotto Gesù confido in te, proprio come momento in cui l'uomo riflette questa immagine, questo dono che è fatto all'umanità e si converte verso l'amore di Dio che è esteso a tutti i peccatori. Perché la prima domenica dopo Pasqua? Questa è stata una richiesta specifica di Gesù, che fosse celebrata questa festa la prima domenica dopo Pasqua. Quindi, se vogliamo, ecco, l'uniamo a questa immagine alle mie spalle, la crocifissione e poi la resurrezione e subito dopo questo abbraccio di Gesù all'umanità. Le forme del culto che sono state scritte appunto nel diario di Santa Faustina sono, in primo luogo, la festa della Divina Misericordia, l'immagine, la venerazione dell'immagine, il culto della Divina Misericordia, quindi riflettere sull'amore di Gesù a tutti i peccatori, quindi si stende, con la coroncina della Divina Misericordia alle tre del pomeriggio, che è l'ora in cui Gesù è morto e quindi tutta la sua misericordia si è allargata su tutta l'umanità sofferente.